Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. E che si mangia oggi? Oggi prepariamo insieme una tipica ricetta pugliese, la mitica tiella di patate, riso e cozze. Però questa volta la facciamo nella versione più antica e quindi con la zucchina, nella versione estiva. Che dite? La prepariamo insieme? Andiamo in cucina. Gli ingredienti necessari sono patate, zucchine, pomodorini, aglio e prezzemolo tritati, cipolle bianche, le cozze a mezzo guscio, l'olio extravergine di oliva, il pecorino, il riso bianco, un tegame in creta o in alluminio e l'ingrediente segreto di cui vi parlerò dopo. Iniziate con lavare e strofinare bene le cozze, quindi apritele conservando la loro acqua che andrà filtrata. Questo è l'ingrediente segreto di cui vi parlavo prima. Affettate le patate che dovranno avere uno spessore di circa mezzo centimetro. Affettate anche le cipolle e le zucchine. Sciacquate il riso per eliminare parte dell'amido. A questo punto possiamo iniziare la preparazione della nostra tiella e quindi versate un generoso filo di olio sulla teglia. Le cipolle abbondanti. Aggiungete i pomodorini. Unite anche il prezzemolo e l'aglio tritati. Aggiustate di sale e pepe. Sistemate il primo strato di patate. il prezzemolo tritato. Aggiungete sempre poco sale e pepe. il prezzemolo tritato. Un cucchiaio di pecorino. E sistemate le zucchine, una accanto all'altra. quindi di nuovo poco sale. pepe. Ancora prezzemolo tritato. E un cucchiaio di pecorino. prezzemolo tritato. Aggiungete anche un filo d'olio. e a questo punto sistemate le cozze con il frutto rivolto verso l'alto. Aggiungete aglio e prezzemolo tritati. il pecorino grattugiato. e riempite ogni cozza con il riso. A questo punto aggiungete abbondante pecorino. A questo punto aggiungete abbondante pecorino. un filo d'olio. il prezzemolo tritato. e fate il secondo strato di patate e zucchine. aggiustate di sale e pepe. aggiungete ancora dei pomodorini. il prezzemolo e l'aglio tritati. un po' di cipolle. abbondante pecorino. A questo punto aggiungete l'ingrediente segreto. l'acqua delle cozze che avrete filtrato. l'acqua andrà aggiunta lungo le pareti della tiella. aggiungete anche l'acqua. perché ho condito gli ingredienti strato per strato. verificate che l'acqua aggiunta sia sufficiente. coprite la tiella con il suo coperchio. e infornate a 200 gradi per circa 30 minuti. quando la vostra tiella arriverà a bollore eliminate il coperchio e proseguite la cottura per ancora 20 minuti circa. controllate sempre a vista. ed eccola qui. in tutto il suo splendore. lasciate riposare la vostra tiella. di patate riso cozza e zucchine per almeno mezz'ora. la tiella infatti va servita tiepida. a questo punto la nostra tiella è pronta per essere servita e gustata. questa è la mia versione di patate riso cozza e zucchine. grazie per aver seguito anche questa videoricetta. alla prossima ciao! 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 ciao!